La filiera dell'agroalimentare non si è resa durante l'emergenza sanitaria e anzi ha dimostrato di essere strategica l'agricoltura e il nostro futuro. Lo assicura il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova che oggi ha dedicato parte della giornata a un tour nelle Marche. Dopo la tappa al mercato ittico di Ancona, poco dopo mezzogiorno è arrivata a Fano dove è stata accolta dalla cooperativa agricola Falcineto. Ad attenderla oltre ai membri del direttivo e ad alcuni soci c'era anche il consigliere regionale Federico Talè, candidato per Italia Viva per il suo secondo mandato. Diversi temi trattati da Bellanova, dai progetti portati a termine alle strategie messe in campo dal ministero per far fronte alla crisi economica dovuta al Covid-19. In un momento in cui tutto il paese si fermava, le persone venivano chiuse in casa, noi abbiamo avuto altre persone che facendo lavori umili, dal lavoro agricolo all'azienda di trasformazione, ai camionisti che consegnavano i prodotti, alle commesse dei supermercati che con le loro attività hanno consentito a tutti noi di poter consumare un pasto esattamente come prima dell'emergenza sanitaria. Questo settore, ha proseguito il ministro, necessita di nuovi ingressi, in particolare giovani e donne. E' importante quindi creare le condizioni per avere un reddito dignitoso. D'altra parte, ha detto Bellanova, dobbiamo far ripartire il mondo della ristorazione, per questo mi impegnerò per ottenere lo stanziamento di un miliardo di euro da destinare alle 180.000 imprese del settore. La mia proposta è di vincolare questo intervento esclusivamente all'acquisto di prodotto italiano. Noi diamo 5.000 euro a fondo perduto a tutte le imprese di ristorazione, ma queste imprese potranno avere queste risorse se si impegnano ad acquistare prodotto italiano. Semplicità, efficacia e ripartenza sono gli obiettivi del ministro per evitare lo spreco alimentare e soprattutto aiutare il comparto della ristorazione. Gran parte delle imprese, ha precisato, sono ancora chiuse e quelle che hanno riaperto stanno sopportando i costi enormi anche per effetto del distanziamento sociale che devono garantire. Dobbiamo investire le risorse non per tenere le persone in cassa integrazione e le aziende chiuse, dobbiamo investire le risorse per tenere le aziende aperte e le persone in attività perché questo è quello che serve per far ripartire il paese e per non mettere ulteriormente in ginocchio un sistema produttivo che ha già pagato un prezzo altissimo anche per effetto dell'emergenza sanitaria. Al termine dell'incontro la cooperativa Falcinito le ha consegnato il libro realizzato in occasione di 70 anni di attività. Poi è stata la volta della cooperativa ACO Farosciano di Fano. Qui si è svolto un tavolo di confronto con i professionisti del settore i quali hanno potuto esporre le diverse criticità come l'etichetta, i contratti di filiera e la necessità di avere consumatori più consapevoli nella scelta dei prodotti da acquistare. Una giornata molto proficua, positiva, siamo arrivati questa mattina a mezzogiorno alla cooperativa Falcinito, lì è stato un momento anche toccante, il ministro ha conosciuto questa importante in realtà cooperativa del Fanese e una cooperativa che subito dopo la guerra 12 agricoltori sono andati dal nottaio con 6.000 lire e stanchi di stare sotto il padrone hanno costituito questa cooperativa. Da una parte facevano agricoltura, dall'altra gestivano un genere alimentare. Da lì la cooperativa Falcinito di oggi che gestisce 1.300 ettari di campi di agricoltura e gestisce un ristorante in biricocco. Da lì ci siamo spostati qua, all'ACOF. All'ACOF è stato veramente interessante perché sia gli esponenti del Consorzio Agrario che quelli del CODMA, che è ACOF stessa, hanno fatto un sacco di domande al ministro, hanno esposto i loro problemi, il ministro si è impegnato a risolverli.